Sei stato fortunato, Giuse è una brava ragazza. Sì, ha ragione maestro. Sta tranquillo, forse è meglio non pensarci. Ora devi soltanto lavorare e dedicare tutto il tempo libero alla tua ragazza e agli allenamenti in palestra. Il segreto è che devi crederci, devi continuare a crederci. Vedrai, le cose andranno sempre meglio. Grazie, sei un amico.